Noi quattro è un film molto complesso e molto coinvolgente che racconta una storia apparentemente semplice e invece è una storia di grandi conflitti, però anche di grande leggerezza. Voglio chiederti come l'avevi strutturato e poi anche i vari ruoli, tra cui quello di Lucrezia, che è un ruolo molto affascinante e seducente perché sembra un po' il doppio della madre, poi l'antagonista, il doppio del padre, poi l'antagonista. Insomma è molto molto complesso da questo punto di vista. È strutturato come se fossero quattro fili che partono separati, che cominciano a incrociarsi a due a due, a coppie sempre diverse e alla fine si intrecciano e fanno una treccia nel punto di incontro di tutti e quattro i personaggi per poi di nuovo separarsi. Questo è il disegno del film. In realtà è un disegno piuttosto complesso perché volevo creare, senza forzare la trama, in un'unica giornata un'occasione per incontri a coppie sempre diverse. Quindi questo è stato un lavoro piuttosto difficile perché ho dovuto immaginare un andamento della giornata che mi permettesse di far muovere i personaggi attraverso la città e regalare loro degli incontri e dei momenti di solitudine. Però nel suo caso, cioè lei è bellissima e bravissima, però c'è anche questo fatto che nel confronto con la madre, quello che è risultato di Berina, è un confronto bellissimo dall'altro, semplicissimo ma bellissimo. Ecco, come hai lavorato con lei? Perché lei poi è il personaggio forse più... Anche che non chiede la simpatia che è ragazzina... No, esatto, no, infatti Lucrezia ha avuto anche il coraggio e le sono molto grato di prendersi sulle spalle questo personaggio che porta un tema più drammatico all'interno della storia. È una ragazza idealista e appassionata che così, insomma, per ingenuità ha intrapreso una relazione con un uomo molto più grande di lei, di cui fra l'altro teme è di essere rimasta incinta. Quindi il suo percorso all'interno della giornata è per lungo tempo solitario e anche molto, molto drammatico. C'è un pensiero di morte addirittura, insomma, in lei. Poi però, diciamo, alla fine di questa giornata, sciolti i suoi dubbi, i suoi cruci, ridiventa la ragazza dolce e spensierata che può essere. E questo quanto è stato difficile? Non è stato difficile perché ci siamo riusciti ad appoggiare l'un l'altro e quindi ci siamo accompagnati in maniera, diciamo, laddove c'erano delle difficoltà ci siamo sempre venuti incontro e penso che si parta sempre da noi stessi alla fine quando portiamo qualcosa in scena, sia a teatro che al cinema. Quindi, ecco, partendo da qualcosa che magari si può riconoscere in noi stessi, poi la trasformazione di quella roba lì avviene nel momento in cui ti confronti con l'attore che hai di fronte e quindi succede là. Però, quello che colpisce la tua interpretazione è che tu porti con te come una sorta di solennità vulnerabile, di fragilità, però al tempo stesso molto solenne. Ecco, cambiamenti molto importanti. Questo, vabbè, talento, carisma, quello che ti pare, però non era facile poi relazionandolo anche ad altri, insomma. A lei credo che sia l'ultima che sia in grado di dirtela questa cosa, perché non è consapevole. Io l'ho vista a teatro e, lo dico sempre, sono rimasto proprio sbalordito dalla sua potenza, dalla sua presenza, insomma. Volevo mettere in campo un ritratto di ventenne italiana fuori di tutti i canoni, diciamo, che ho sempre visto. E volevo una ragazza donna forte e in lei l'ho trovata. Però a lei, se glielo dici, dice, boh. Però, voglio dire, dalla scena in cui ti vediamo a salire sul palcoscenico in maniera così solenne a quando poi canti in macchina, che è una scena bellissima, molto importante, anche molto divertente, quella in macchina, anzi, sono molto contento di averla vista. Volevo chiederti quanto è stato difficile questi cambiamenti, perché è un personaggio che cambia molto nel film. Sì, guarda, ti dico la verità, non ho incontrato delle difficoltà spaventose. Una volta stabilito il percorso, avendone parlato con lui, ne abbiamo parlato molto, e le relazioni che ci sono tra i personaggi, ho fatto proprio un atto di totale abbandono e fiducia a quello che succedeva nel momento. Quindi sono contenta che il risultato sia stato questo che mi dici. Ho cercato di essere il più onesta possibile nel prendermi questa responsabilità. Incosciente anche, perché andare a fronteggiare Xenia Rappoport in un testa a testa come quello, insomma, non penso che farebbe tremare le vene dei polsi. Ho pensato a raccontare la storia, questa era la cosa che mi interessava, quindi a non fare anche dei momenti piccoli delle scene, cercare di veramente raccontare qualcosa che avesse un senso per noi, visto che ne abbiamo anche parlato, con lui si parla molto e bene. Grazie.